Soleil Sorge non ci sta e rivendica le sue sensazioni ad Alex Velli. La GFina lo accusa di aver orchestrato dei teatrini, e di non avere alcun interesse nei suoi confronti, il rientro nella casa del grande fratello VIP di Alex Velli ha smosso nuovamente gli equilibri dei GFini. Chi ha risentito di più dell'entrata dell'attore sono ovviamente Soleil Sorge ed Elia Duran che, quindi, hanno dovuto fare i conti con nuove dinamiche. Se l'influencer credeva di poter ristabilire quella complicità tanto decantata in queste settimane di assenza, Delia forse credeva di poter ricevere dal marito quella dimostrazione di cui parlava al suo ingresso nel reality. Ma Soleil, però, è la prima a rivellarsi a questo gioco orchestrato dal Velli, manifestando tutto il suo disappunto per il suo atteggiamento. L'influencer non le manda a dire, è sempre stata schietta e il fatto che Alex Velli sia rientrato, seppur come ospite, non le impedisce di dire con chiarezza quello che prova dinnanzi ad un comportamento che risulta essere costruito. Dopo aver parlato del loro rapporto limpido e vero, Soleil sente che quanto sta avvenendo tra loro non ha nulla a che vedere con quanto hanno vissuto nei primi tempi dello show. Le prese in giro e cercare di raggirare funzionano con gli altri, ma non con me. Forse te lo sei scordato visto che è da un po' che non eri qui. Mi baso su quello che vedo e ricevo da te. Si è un teatrino quello che avete fatto e quello che sto vedendo io. Di vero non vedo un cavolo di niente. Sono così delusa da tutto. Sono così delusa da tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.